Le chiedo di cosa stiamo parlando, che cosa abbiamo visto, cosa stiamo raccontando? Intanto stiamo raccontando una storia terribile, perché uno non si può sottrarre a questo dolore, che è un dolore non necessitato, non è qualcosa di imprevedibile, non è vero che è imprevedibile. Noi non abbiamo solo i morti, i dispersi, i feriti, abbiamo ferita o forse morte la Costituzione Repubblicana, che recita al suo primo punto una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, quale lavoro? E questa tragedia tocca il lavoro più classico, il lavoro manuale, il lavoro di quelli che sono sempre stati chiamati gli operai, cioè proprio va al cuore della questione, è come se ti venisse negata insieme a una cultura del lavoro degna dell'ordinamento costituzionale, della dignità della persona e del lavoratore, ti venisse negata la possibilità di prevedere il tuo futuro. Questa cosa è veramente terribile, perché il lavoro è stata storicamente la modalità attraverso la quale delle donne e degli uomini che non avevano niente si sono dato un futuro e una prevedibilità di futuro. Questo annientamento è terrificante. Guardi, ogni volta io ricordo il volto di quel minatore di Marcinelle che si era salvato dalla catastrofe di Marcinelle e che disse una cosa che io vorrei fosse scritta in tutti i luoghi di lavoro. Diceva, sì ci sono i problemi tecnici da capire, perché è accaduto, ma non dimenticatevi mai che se un uomo muore in miniera è perché il carbone valeva più della sua vita umana. Se un uomo o una donna muoiono in un posto lavorando vuol dire che il profitto vale più della loro vita umana. Che lavoro è? Voglio stare su questa domanda. Che lavoro è? È un lavoro per il quale in Italia fino a questo momento sono morte 1041 persone lavorando, tre ogni giorno più o meno. Quel tipo di lavoro per cui in Italia si muore, sono morte nel 2020 facendo un raffronto con gli altri paesi europei, sono morte circa 800 persone in Italia e quelle 800 persone rappresentano quasi un quarto del totale delle persone che sono morte sul lavoro in tutta l'Unione Europea. E allora questo cosa racconta del nostro paese? Sembrerà grossolano questo mio parere e anzi un po' mi scuso perché potrebbe sembrare un elemento di cinismo, ma guardi che è la stessa dinamica del salario. I morti sul lavoro sono in una proporzione insopportabile e nettamente superiore a quella della media europea, così come i salari europei sono nettamente inferiori alla media europea. Quindi c'è una relazione, vuol dire che è il lavoro che è stato impoverito e non considerato. Un tempo un sociologo molto importante nella nostra formazione, Luciano Gallino, ex Olivettiano, ha scritto un testo che recitava così. C'è stato il rovesciamento del conflitto di classe. C'è stato il tempo, il nostro, in cui gli operai confliggevano contro i padroni. Adesso sono i padroni che da anni confliggono contro la condizione dei lavoratori. Guardi, se noi guardassimo la dinamica, anche questo è terribile, la dinamica dei morti sul lavoro, noi ci accorgeremmo che noi oggi siamo tornati in grosso modo ai livelli pre anni 70 e che negli anni 70 c'è una riduzione significativa dei morti sul lavoro, ma significativa, vuol dire una secca riduzione, che riprende poi con la fine degli anni 80. l'andamento della lotta di classe segna la condizione e la percezione del lavoro nella società. Se il lavoro vale poco, è tutto trascinato di conseguenza. Non è solo una questione remunerativa, è la questione della tua integrità personale, della tua dignità. E quindi anche della tua vita. E della tua vita. Perché la vita lavorativa che viene messa in discussione, ne parlavamo prima, è così estesa questa condizione che arriva persino… E coinvolge anche il padrone, perché noi sappiamo che ci sono situazioni alle quali il datore di lavoro… Il padroncino muore insieme. Il padroncino muore insieme. Perché la dominanza delle compatibilità, cioè di quello che costa meno nel lavoro, è quello che determina la legge. Determina la legge sul salario, è male, ma determina la legge persino sulla vita delle persone ed è insopportabile. Io sono stato colpito oggi dalla reazione dei lavoratori metallomeccanici dell'Emilia con gli scioperi che sono stati in condizioni difficilissime. Lo sciopero non è così alto, diciamo, nella considerazione generale oggi, diversamente da altri anni. Questa spontanea partecipazione è una cosa che io conosco bene per storia. E quando proprio dici adesso basta… Io risentivo questa mattina nelle orecchie quelle tante volte gridate nelle manifestazioni adesso basta, mai più un morto sul lavoro. Abbiamo smesso di dirlo. Io penso che questa testimonianza di oggi ricominciano a gridarlo. Anche perché davvero quello della centrale è il racconto, è l'immagine dell'Apocalisse. Così. L'acqua, il fuoco, la terra che si chiude su se stesso, questo luogo chiuso, buio. Sì sì, Sì e da quello di chi pan